Salve a tutti, buonasera e bentrovati con la nostra trasmissione di approfondimento Si fa sera parliamone, questa sera abbiamo pensato di dedicarla alla vita, ai servizi alla vita dopo l'ultima puntata in cui avevamo come ospite Monsignor Giusti e in cui avevamo parlato appunto della giornata dedicata alla vita oggi siamo qui per parlare dei servizi presenti nella diocesi di Livorno nel territorio di custodia e di accoglienza alla vita abbiamo con noi sua Raffaella Spiezio, salve buonasera, che è la presidente della fondazione Caritas Livorno Iniziamo subito a parlare di questo ambito, di questo aspetto, la custodia della vita dal concepimento fino all'accompagnamento, fino agli ultimi istanti della vita anche questa è una missione caritatevole della Caritas Sì, è bello quando parliamo della vita che è davvero dal suo nascere al suo termine questa è una cosa molto importante e credo che alla Caritas, quindi alla Chiesa tutta, la cosa che sta più a cuore perché comunque cerchiamo di incarnare il Vangelo della vita è quella della vita di ogni persona e io dico anche davvero in maniera personalizzata quindi è per questo che ci sono una multiforme di servizi che vanno dalla casa Papa Francesco che è una casa d'accoglienza per minori soli non accompagnati dagli 0 agli 8 anni quindi piccolissimi la casa Villa Benedetta che è in collaborazione con le suore figlie di Sant'Anna dove appena sono arrivata è stata uno dei primi segni nel mio servizio qui in diocesi e mi piaceva restituire alle suore figlie di Sant'Anna quella che è la loro vocazione quindi quella di accompagnare le madri nella crescita dei loro figli quindi c'è un accompagnamento sia della mamma che del bambino in questa crescita della genitorialità poi abbiamo il centro per la famiglia che cerca di guardare alla famiglia a 360 gradi quindi non solo un ascolto semplicemente dedicato a un sostegno economico a una distribuzione di pacchi perché a volte spesso e volentieri si pensa che Caritas sia questo ma è proprio un sostegno, un accompagnamento un ridare speranza a quelle famiglie che a volte sono affannate dai problemi della vita e non riescono a guardare oltre quindi c'è un sostegno scolastico c'è un sostegno sanitario c'è un sostegno psicologico veramente a 360 gradi questo dice anche come a Caritas sta a cuore la famiglia a 360 gradi tanto che abbiamo fatto anche corsi di formazione per i padri per rivalorizzare anche la figura paterna che spesso e volentieri in certe situazioni di criticità è un pochino più distaccata a proposito del servizio di cui parlava prima di Villa Benedetta appunto siamo andati a intervistare anche Sua Maria che è la responsabile di questa struttura vediamo l'intervista Villa Benedetta è una comunità che accoglie le mamme con i bambini in difficoltà praticamente la nostra comunità è una comunità educativa perché amministrativamente viene gestita dalla Caritas è un servizio della Caritas dove il presidente Sorana Raffaella Spezia in grande collaborazione con lei e con tutto lo staff che gli operatori dà la possibilità delle mamme con i bambini per un recupero ma non solo il recupero per un aiuto di accoglienza accogliere queste mamme giovani e non più giovani questo è il nostro intento volere insieme a loro fare un cammino così come in una famiglia che ci si aiuta da Villa Benedetta sono passato anche di più di 30 nuclei familiari mamme con bambino in questi 4-5 anni che abbiamo che è aperta la struttura e sappiamo così non è per la riconoscenza che noi vogliamo però pensavamo che quando finito il loro progetto loro se ne andavano sì felici e contenti anche abbastanza sentite sostenute ma ci ritornano perché il nostro progetto era anche un pochino di lasciarle di lasciarle andare sono libere però loro ritornano qui come se fosse casa loro giovani che hanno avuto bimbi che hanno dovuto prendersi in mano la loro vita e la vita dei bambini per poter diciamo così sentirsi responsabili fino in fondo di questo perché la cosa più importante è quello una responsabilità che le suori insieme alla comunità educativa e anche agli operatori Caritas cercano in qualche modo di aiutare a prendersi a queste giovani mamme di Villa Benedetta che ospitano lì sì penso che la cosa più bella ma anche la cosa più difficile è quello di far prendere consapevolezza a queste donne che magari sono anche vittime di violenza la maggior parte delle persone delle donne che noi accogliamo sono vittime di violenza quindi intanto fare un percorso personale e questo io devo dire che sulla città di Livorno stiamo cercando di creare una rete importante col centro donna quindi l'associazione Ippogrifo con l'associazione di psicologi che è Jonas eccetera eccetera quindi c'è un percorso personalizzato anche accogliere che che il bimbo è comunque qualcosa di nuovo una nascita una vita che ti può permettere di vedere la realtà in maniera diversa e anche questa crescita dell'essere madre che penso che ognuno di noi debba crescere in questa al di là di chi ha avuto situazioni di violenza quindi cerchiamo veramente e devo dire la verità sua Maria diceva che ritornano le mamme devo dire la verità che davvero c'è stato un bel percorso con diverse mamme che va sempre comunque sostenuto anche fuori perché mancano magari altri aspetti ma questo aspetto della genitorialità è anche un impegno che vi siete presi con il consultorio a cui facevo riferimento prima in via Donnini vediamo anche le immagini della struttura delle sorgenti di carità un percorso in cui ci sono degli operatori che ascoltano e aiutano queste famiglie che a volte spesso si trovano da sole ad affrontare certe problematiche sì, noi cerchiamo non è proprio un consultorio io ci tengo a dire che è un centro per la famiglia perché il consultorio ha una propria vocazione è un centro per la famiglia proprio perché tiene conto di tutta la famiglia a 360 gradi ci sono situazioni a volte nella crescita dei propri figli oppure anche nella relazione con il proprio partner che richiedono comunque un sostegno e la cosa che cerchiamo di fare di non dare risposte standardizzate ma di personalizzare a volte cerchiamo di essere anche quell'anello tra la realtà familiare e le istituzioni magari ci sono problemi che ne so con neuropsichiatrici di accompagnamento del bambino o logopedici eccetera eccetera nell'attesa dell'attivazione cerchiamo di attivarci noi ma per dare serenità e per dire che c'è qualcuno accanto a loro io credo che la cosa che a volte accade questo nella vita a 360 gradi dalla nascita alla morte e anche nei giovani è a volte non avere persone accanto che ti aiutano a trovare soluzioni diverse c'è una forte solitudine quindi anche questo diventa anche poi un appello per me un po' alle tante persone di buona volontà della città di Livorno di mettersi continuamente a servizio non è detto di una realtà di un'associazione ma anche semplicemente di accoggersi anche di chi vive nel nostro vicinato di essere attenti di essere attenne di farsi vicine di essere solidali credo che questa è la cosa di cui c'è più bisogno in questo momento c'era anche un percorso riferito ai padri soli spesso questa questa figura paterna nell'ambito di una separazione di un divorzio resta un po' la figura forse un po' più debole che riesce con difficoltà a incontrare anche i figli anche ad avere uno spazio proprio per incontrarli nella serenità anche questo è un servizio che fate allora questo è un servizio che era nato però purtroppo ci siamo resi conto che va ripensato perché spesso e volentieri i padri separati non riescono ad accogliere il fatto di farsi aiutare da caritas per poi recuperare anche un rapporto con i propri figli stiamo pensando una cosa diversa che sia veramente uno spazio di incontro perché qualcuno non sa dove incontrare i propri figli quindi noi l'avevamo pensato un po' come casa ma questa cosa forse in questo momento è ancora un po' prematura allora stiamo pensando uno spazio di incontro dove uno può andare con i propri figli passare la propria giornata cucinare fare qualcosa però ecco è in progetto forse potrebbe essere la nuova struttura di Laggio della Carità Laggio in Corea l'occasione per inaugurare uno spazio simile sì ora stiamo ripensando alcune cose però c'è già una vocazione specifica a questo luogo qui sia la mensa le docce guardaroba che siano un pochino più sviluppate perché in questo momento siamo molto sacrificati dove siamo adesso a Torretta perché purtroppo la crisi ha diciamo aumentato un po' quelli che sono i numeri delle persone che hanno bisogno c'è un housing first quindi per le tante persone che vivono per la strada io a volte mi trovo la sera a girare in via grande e ci sono persone che non sanno dove andare e l'idea è di partire dalla casa per poi ricostruirsi a volte spesso la casa diventa l'ultimo tassello in un percorso ci sarà un housing familiare di sopra quindi probabilmente ci saranno anche nuclei proprio dedicati a questa cosa qui quello poi sarà però stiamo ancora pensando altri spazi perché desidera essere veramente un villaggio non è che è un che c'è un lotto ci sono più lotti quindi più servizi che poi devono tra di loro diventare sinergici e anche secondo me generativi quindi un lavoro insomma un progetto work in progress via che sta stato piano piano plurilato diciamo che è sviluppato in diversi diversi anni in tanti anni però che modellerete un po' in base alle esigenze di tutto il territorio prima parlava di Casa Papa Francesco anche questa è stata un po' una struttura un unicum sul territorio con i bambini così piccoli magari affidati dal tribunale eccetera che trovano finalmente una famiglia sì vediamo anche le immagini di Casa Papa Francesco Casa Papa Francesco è nata un po' dopo un lungo discernimento direi tre anni perché appunto io arrivando qui a Livorno la mia comunità infatti dove è Casa Papa Francesco è proprio dove vivo io la mia comunità mi ha detto ascolta il territorio osserva il territorio e vedi di cosa c'è bisogno quindi in un discernimento lungo di confronto anche con i servizi sociali con la polizia con i carabinieri eccetera è nata l'esigenza di una casa che accogliesse i piccolissimi dagli zero agli otto anni perché spesso venivano mandati fuori provincia e quindi è una casa che è nata ed è un bel segno davvero io per me è un po' dove ho il mio cuore diciamo un po' perché i bimbi comunque sono i più fragili della terra perché hanno bisogno di qualcun altro che si occupi di loro a differenza magari dell'adulto e dall'altra parte io la vivo anche in una dimensione di prevenzione nella misura in cui riesci davvero ad accompagnare educare dare un bagaglio personale a questi bimbi per una crescita sempre più feconda poi non saranno i nuovi poveri di domani perché spesso le povertà si rigenerano all'interno di un clima familiare quindi diciamo è anche un po' il là per prendere una strada propria per iniziare una vita insomma che abbia un valore più grande che soprattutto che riescano in qualche modo anche a portare la loro personalità cerchiamo di accompagnarli sia nel rinserimento nella propria famiglia sia magari lì dove ci sono provvedimenti particolari adozione affidamenti anche di accompagnare la famiglia che accoglierà questo bimbo quindi anche lì inizialmente ci occupiamo del bambino ma poi ci occupiamo anche del luogo dove il bambino sarà inserito ed è veramente un servizio molto molto bello quanti bambini sono passati in questi anni ad oggi sono passati 21 bambini che avete anche accompagnato in nuove famiglie in nuove famiglie sia adozione affidamenti e anche alcuni rinserimenti nella propria famiglia e accanto alla casa papa francesco c'è anche un'altra bella realtà la casina la chiamano di cosa si tratta allora la casa Ollus è un'associazione nata prima di casa papa francesco ed è nata da un'instituzione che è quella di circostanza in cui si era reso conto che alcune persone sole che magari avevano delle fragilità relazionali oppure erano persone che non avevano più un luogo dove stare stavano tanto tempo in ospedale anche se non avevano bisogno e quindi la casa Ollus ha questa vocazione di accogliere i malati terminali sociali e devo dire che per noi Caritas è un luogo dove spesso e volentieri ci mandiamo anche le persone in convalescenza quindi è nata per i malati terminali ma a volte è anche un luogo dove accoglie persone in convalescenza per un certo periodo perché una persona che ha bisogno di cure se continua a vivere in una situazione non accompagnato in un luogo non idoneo diventa e quindi è una bella esperienza è anche bello queste due case così vicino perché credo che per gli ospiti della casa vedere la vita dei bimbi che giocano che cantano che si arrabbiano che litigano che vanno in bicicletta è comunque un è un bel vedere no? e quindi è qualcosa che si sostiene vicendevolmente una compagnia no? e allo stesso tempo insomma anche uno svagarsi per dare pensieri infatti condividiamo anche dei momenti insieme le feste le viviamo insieme se facciamo d'estate qualcosa fuori in giardino lo condividono con noi insomma i bimbi conoscono gli ospiti per nome vengono a casa quindi è una bella convivenza c'è sul territorio anche un'altra bella realtà legata comunque al discorso della malattia nella parrocchia di Santa Sison che è in piazza Maria Lavagna vicino all'ospedale di Livorno i padri i vincenziani i padri 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 una casa una struttura delle stanze per i familiari che vengono ad assistere qualcuno in ospedale magari non hanno un posto dove stare magari vengono da fuori lo abbiamo intervistato anche padre Carmine la nostra comunità parrocchiale di Santa Elisabetta Anna Sison ha la possibilità di poter alloggiare in una parte della casa canonica i familiari che richiedono la possibilità di avere un alloggio per i loro familiari in ospedale è un'attività molto molto bella perché ci dà la possibilità innanzitutto di di mettere in evidenza il nostro carisma vincenziano che è quello di aiutare le persone più bisognose ma è anche l'occasione per avvicinare tante persone che sono appunto nel bisogno sono tre camere quindi con la possibilità di poter stare in ogni camera con due posti letto il bagno poi c'è la cucina ci sono i servizi tutto a loro disposizione naturalmente noi non c'è una tariffa ma è tutto a libera offerta quindi le famiglie che vengono alla fine del loro soggiorno lasciano poi un'offerta per la casa è anche bella questa idea anche perché comunque le famiglie che sono lì hanno un minimo anche come dicevi di accompagnamento perché i padri ci sono si hanno bisogno anche di parlare c'è la chiesa quindi anche questa è una struttura che a livello materiale sostiene però anche a livello più importante più personale sì quest'anno la sito fa 50 anni dalla nascita della parrocchia e davvero credo che Don Gino in maniera particolare ha avuto una bella intuizione perché è una casa unica nel territorio per questo servizio qui e noi collaboriamo abbiamo collaborato con Don Gino ora con i nostri confraccatelli perché davvero la persona quando si trova a vivere anche il problema della malattia ha bisogno davvero di qualcuno accanto e un luogo come quello non fuori dalla chiesa ma all'interno degli ambienti ecclesiali secondo me è un bel segno un bel segno di vicinanza quindi questo dice come io credo che tutti possiamo fare dei servizi no? questo ci tengo sempre a dirlo noi non siamo coloro che per forza dobbiamo fare i servizi cerchiamo di ascoltare il territorio di osservarlo di capire cosa manca e di rispondere e di rispondere con la qualità del servizio e soprattutto con l'avvicinanza e con l'accompagnamento infatti tutti i servizi che Caritas fa che le parrocchie fanno sono piccoli segni ma io dico sempre che sono segni di speranza e che vogliono dire al mondo che è possibile fare qualcosa di diverso no? è possibile che nella misura in cui mi apre all'altro mi dono all'altro ne ricevo io anche in crescita in benessere e anche in qualità di vita un bel segno di speranza e anche di ascolto del territorio sicuramente anche alla scuola dei mestieri in quel senso ridare speranza ridare una possibilità anche a chi ha perso il lavoro anche questa è una tematica forte sì il problema del lavoro è uno dei problemi fondamentali di Caritas proprio ieri ho incontrato due persone una giovane e una meno giovane che non riescono a trovare lavoro e dico ieri ne ho incontrati due per dire come ogni giorno ne incontro tanti e come molti chiedono sia al vescovo che a noi di trovare lavoro noi non possiamo dare lavoro alle persone dobbiamo cercare di cambiare la realtà perché la realtà possa crescere e dare lavoro però sicuramente è un punto di fragilità importante la scuola dei mestieri serve più che altro a ripensarsi perché alcune persone perse il lavoro non sanno più che cosa fare una delle prime esperienze con la scuola dei mestieri era quella che chiudendo tante ditte che facevano sempre le stesse cose le persone che lavoravano lì i lavoratori pensavano di non essere capaci di fare nient'altro e quindi attraverso la scuola dei mestieri si sono anche riscoperti e poi è anche un luogo lì di incontro sociale con altre persone che hanno vivono la stessa problematica quindi diventa anche un luogo di mutuo aiuto e quindi questa è un'esperienza molto bella però a volte si pensa scuola dei mestieri uguale lavoro ecco su questo bisogna essere realisti non è che si trova lavoro è apre un percorso verso la via del lavoro ma non è un luogo dove trovare un lavoro ultimamente c'è stata anche un'attenzione in particolare ai poveri che vivono per strada anche con il binario mobile questo camper che gira per la città appunto per le persone senza tetto che vi hanno dedicato anche diversi servizi anche su TG nazionali ecco in questo senso ora è già passato diverso tempo da quando è iniziato anche quella è un'attenzione alla vita sì in Caritas mancava questa dimensione del diciamo del servizio di strada e è nata anche quella per caso ci hanno voluto regalare un camper e qui è nato il progetto e credo che sia uno dei servizi più belli io a volte vado fuori per la strada l'altro giorno mi ha chiamato il 118 sono dovuta intervenire sono partita a casa per andare al porta a incontrare una persona che era e davvero lì ti rendi conto della grande fragilità e della nudità delle persone che vivono per la strada quindi diventa per noi quel servizio lì un modo per aiutare le persone a trovare altri percorsi che sono quelli della doccia quella del cibo e capire anche se possiamo a 360 gradi fare qualcosa di più il problema spesso e volentieri è che queste persone non hanno neanche una residenza e quindi se uno non ha una residenza uno non ha un documento è nessuno possibile che oggi che parliamo della vita dell'aiuto alla vita possiamo permettere ancora permettere oggi nel 2018 di fare in modo che alcune persone siano nessuno nella nostra città siano gli invisibili della nostra città e non hanno nessuna responsabilità a volte è per un piccolo evento che la loro vita cade nel disastro più totale di questa cultura della vita del discorso degli scarti purtroppo in cui la mentalità che viviamo oggi ne aveva già parlato Papa Francesco nel 2014 sentiamo questo breve intervento la vita umana è sacra è inviolabile ogni diritto civile poggia sul riconoscimento del primo e fondamentale diritto quello alla vita che non è subordinato ad alcuna condizione né qualitativa né economica né tanto meno ideologica oggi dobbiamo dire no a un'economia dell'esclusione e dell'inequità questa economia uccide si considera l'essere umano in se stesso come un bene di consumo un bene di consumo che si può usare e poi gettare abbiamo dato inizio a a quella cultura dello scarto che addirittura viene promossa e così viene scartata anche la vita occorre pertanto rivadire la più ferma opposizione ad ogni diretto attentato alla vita specialmente inocente e indefessa e il nascituro nel seno materno e l'innocente per antonomasia era già questa cultura dello scarto di cui parlava il Papa è una cosa che respiriamo tutti i giorni sicuramente voi lo vivete anche da vicino questa questa ideologia che tende a scartare chi diciamo non sta nella società sì è un po' quello che diceva all'inizio di quanto è importante sensibilizzare i cuori e di creare compassione questo a livello personale ma credo che ci sia anche bisogno di una sensibilizzazione anche a livello politico anche quello che è accaduto a Macerata che abbiamo ascoltato proprio in questi giorni dice che davvero la vita non è più considerata vita perché se basta poco un po' di odio un po' di rabbia che ha alimentato secondo me per poter fare gesti così davvero io ho nel cuore anche la persona che ha fatto questo gesto perché immagino che chissà cosa gli è passato per la testa no? quindi allora è importante davvero da diciamo dai politici dai potenti della terra si direbbe ad ogni piccola persona di buona volontà che davvero ci apriamo alla compassione all'accoglienza alla solidarietà perché comunque condividiamo quella che è la vita la condividiamo non esiste che senso di giustizia è che io ho di più e l'altro ha di meno per quale motivo posso avere lo stesso tanto condividendo anche quel poco che per l'altro diventa tanto è arrivato un messaggio di Giulia dice io vivo nella zona della rotondina in via Gramsci ci sono tanti drogati c'è qualche servizio per aiutarli io non riesco a fare niente c'è un'altra unità di strada che è un progetto con il CERT che fa parte della rete del binario mobile in cui anche loro con un camioncino stazionano in alcuni luoghi della città e cercano di accogliere e accompagnare le persone che vivono anche delle dipendenze sicuramente si può fare tanto di più ma parlare di dipendenza è una cosa molto complessa anche un progetto su tutto quello che è la realtà dei disabili forse sarebbe da pensare sul territorio ci avete già in qualche modo ragionato allora sul territorio ci sono tante associazioni di persone che si occupano della disabilità e molto spesso e volentieri nascono da genitori sarebbe opportuno magari fare sempre più rete è opportuno trovare un nuovo modo di strutturare un dopo di noi e come Caritas noi abbiamo un piccolo segno anche lì che è la commissione H la chiamiamo così siamo in diversi dove ogni sabato si incontrano in Biadonnini fanno delle attività è proprio un luogo d'amicizia diciamo e poi d'estate viviamo quella che chiamano Castiglioncello quindi queste tre settimane di vacanza tra amici ecco la cosa bella che si respira in questa commissione è che siamo in diversi vuol dire proprio che nessuno è diverso ognuno ha la propria capacità di essere bello anche se agli occhi di altri perché oggi come oggi nella nuova etica nella nuova bioetica se ne parla tanto a volte si pensa che anche la persona disabile non sia persona la persona disabile è persona è portatore di vita e io devo dire che imparo sempre tanto anche dalle persone che hanno delle difficoltà di questo tipo qui questa esperienza è legata anche molto alla mia vocazione quindi ci credo che sono portatori di vita bene il nostro tempo a disposizione è terminato grazie a Son Raffaella per essere stata con noi anche in questa puntata naturalmente sono tantissimi servizi ricordiamo anche magari chi volesse venire a dare una mano come può fare basta che si rivolge alla Caritas e chiede un appuntamento con me perché in genere ci tengo a incontrare ogni volontario per ascoltarlo per accoglierlo anche per orientarlo in un servizio di cui può essere davvero portatore di pienezza non tutti siamo capaci a far tutto però tutti possiamo fare qualcosa grazie mille la prossima settimana parleremo della quaresima sarà appunto il vicino i giorni che presciadono l'inizio della quaresima quindi vi do appuntamento alla prossima settimana arrivederci a tutti buonasera non sarà grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti